Green Pass in scadenza, uno scenario da evitare per continuare a frequentare i bar e i ristoranti, usare i mezzi di trasporto, fare sport al chiuso o di squadra. Regione Liguria, per facilitare le persone, ha deciso che chi lo ha ancora valido per 7 giorni o meno, da mercoledì 19 gennaio può vaccinarsi senza prenotazioni in alcuni hub del territorio. Nell'Asl 4 è quello di Piazza Leonardi a Chiavari, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Questa mattina erano in molti in fila per il richiamo. Mi credevo di trovare più gente onestamente, perché oggi avevano detto anche che era giornata libera senza prenotazioni, invece per il momento mi è andata bene, adesso ho compilato qui il modulo e poi entro. Sono moltissimi ormai gli ambiti della vita sociale in cui è necessario avere il Green Pass rafforzato ed è importante fare attenzione alle date per non trovarsi con la certificazione non più valida. Per averlo serve aver fatto il richiamo entro 4 mesi dalla seconda dose o essere guariti da un'infezione da non più di 6 mesi. Allora, io abito a Santo Stefano d'Avetto, montagna, da sola, ho una certa età, non sono di primo pelo, non mi potrei muovere senza il Green Pass. È meglio farla, almeno speriamo che faccia bene. Nei prossimi giorni sono previste due estensioni del Green Pass base, quello che si può avere anche con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Da giovedì 20 gennaio serve per entrare in parrucchieri, barbieri ed estetisti. Io chiedo a tutto il Green Pass. La legge è questa purtroppo, però senz'altro si perderà tanto lavoro. Un provvedimento che dà qualche preoccupazione agli esercenti, con una minima parte di clienti che hanno già detto loro che per un po' non torneranno. Anche oggi pomeriggio c'ho persone che non hanno il Green Pass e vengono oggi, poi valuteremo un pochino la situazione. Dal primo febbraio poi serve il Green Pass base per banche, poste, uffici pubblici, IMSS, INAIL e centri commerciali.